Stasera Paola aveva un'amica, speranza sopra di lei e i passi del suo amante non fanno molto rumore. Stasera l'aria è fresca, potrebbero venirmi dei pensieri, dolci del vino che bevi, i più chiari delle tue risposte. Non pensava alla rinunzione, non aveva molti problemi e la sua casa era grande per una persona sola. Stasera l'aria è fresca, potrebbero venirmi dei pensieri, dolci del vino che bevi, i più chiari delle tue risposte. Stasera Le storie finiscono sempre bene e forse anche il tuo uomo diventerà gentile. Stasera Le storie finiscono sempre bene e i passi del suo amante non fanno molto rumore. Stasera Paola aveva un'amica, speranza sopra di lei, speranza sopra di lei e i passi del suo amante non fanno molto rumore. Stasera Stasera Last Grazie Grazie a tutti